Due interventi a Brolo e uno a Merì. Questi progetti sono stati finanziati dal Dipartimento regionale della protezione civile che ha assegnato nuove risorse per la realizzazione di interventi urgenti di protezione civile a seguito degli interventi meteorologici eccezionali e di altre criticità che hanno colpito diversi comuni del territorio regionale. Le disposizioni firmate dal Direttore generale della protezione civile regionale, Salvo Cocina, individuano i sindaci quali soggetti attuatori dei lavori. A Brolo riguardano i lavori di somma urgenza per la protezione del lungomare Luigi Rizzo, nel tratto prospicente il torrente Pozzo, l'importo assegnato è di 350 mila euro e poi interventi urgenti per la mitigazione del pericolo corso per la frana in contrada Mersa, importo assegnato 200 mila euro. Invece a Merì a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 22 e il 27 novembre 2022 e il 3 dicembre 2022 sono stati stanziati i fondi per un totale di 30 mila euro. Saranno impiegati per i lavori di manutenzione della copertura nella struttura comunale adibita a scuola materna in piazza a 24 maggio e nella struttura comunale adibita a scuola elementare in via Mulino, danneggiate dalle infiltrazioni di acque meteoriche a seguito delle avversità atmosferiche del 3 dicembre 2022.